Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'incontro che si è svolto al Comune di Gela in merito ai lavori del porto. Purtroppo ancora non ci sono date certe sull'avvio dell'opera. Insoddisfazione è stata manifestata dai presenti in merito all'assenza oggi della protezione civile e del responsabile unico del procedimento. Verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio di Gela dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di ponente. E' quanto dibattuto questa mattina dal gruppo di lavoro del porto su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia. A seguito della riunione che abbiamo avuto stamattina con il gruppo di lavoro sui lavori del porto insieme all'assessore siciliano, purtroppo sono state desertate sia dalla protezione civile che dalla Capitaneria di Porto. L'unica notizia che abbiamo, grazie al contributo dell'assessore e a una telefonata con l'ingegnere Giacomo Calafato, è che la situazione purtroppo ancora oggi è ferma. Questo è un dato preoccupante e non vorremmo sicuramente creare allarmismo per questo motivo, però certo è che l'attenzione deve rimanere alta e che se c'è un iter che già si è avviato, grazie alla firma di quell'accordo, insieme al Presidente della Regione e l'amministrazione comunale si ritrovare il modo affinché l'iter amministrativo non venga bloccato all'interno degli uffici, perché ancora siamo fermi al piano di ricaratterizzazione che deve essere già avviato e nonostante le autorizzazioni devono venire dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente. L'amministrazione comunale il 4 novembre ha inviato una nota dove chiede di conoscere in maniera dettagliata qual è il leader amministrativo e i passaggi che vengono attivati, ma ancora non abbiamo nessuna risposta. A seguito della riunione abbiamo deciso quindi insieme all'assessore siciliano di mandargli un'ulteriore nota al Presidente della Regione, dove lo invitiamo a convocarci e a convocare unitamente a quella riunione anche la protezione civile per sapere quali sono i problemi che fino ad oggi ci sono stati per non far partire questo piano di caratterizzazione. Così come avevo già preannunciato alcune titubanze a seguito della firma dell'accordo, non sulla volontà esplicita del Presidente di Eni o nostra di volere quest'opera ripristinata sul territorio, ma quanto sul rischio che all'interno dei dipartimenti regionali si possono insinuare tra le pieghe della burocrazia dei comportamenti che attengono più ad una politica di vecchio stampo, che sicuramente non vedono questo territorio avvantaggiato rispetto ad altri. Sono certo che il Presidente ricevendo la nota da parte del Sindaco in merito ad un sollecito sullo stato d'avanzamento del porto possa fare di tutto affinché si sblocchi l'avvio dei cantieri. Non abbiamo avuto quello che volevamo, cioè i tempi certi, dei tempi certi per quando iniziano questi benedetti lavori, perché la città è stanga, siamo stanchi, vogliamo il porto. Il Comitato del Porto sicuramente chiederà una riunione a Palermo, alla Regione, vorremmo incontrare direttamente il Presidente per sapere a che punto è questo ITER. Cambiamo argomento, grave intimidazione, la scorsa notte i danni di un disoccupato gelese di 42 anni, mani ignote, hanno sparato tre colpi di pistola calibro 7,65 all'indirizzo del portone dello stabile in cui risiede in via Giulio Siracusa al villaggio Aldisio. La vittima giorni addietro aveva subito l'incendio della propria autovettura. Indagini sono state avviate dalla Polizia del locale commissariato. E' arrivato al centro Michele Abbate, da subito cominciato a parlare con i cittadini, i ragazzi e il suo maggior interesse. Il primo ministro Matteo Renzi ha risposto in una sorta di question time a ciò che i nisseni gli hanno chiesto, dai problemi della scuola all'alternanza scuola-lavoro, alle tasse. Una lunga conversazione che presagiva un passaggio liscio dinnanzi al recinto della stampa che lo attendeva a microfoni in mano, invece dopo numerose insistenze si è concesso ed ha parlato di infrastrutture di lotta all'illegalità. Si è invece soffermato sulle opere di compensazione, in realtà abbastanza sollecitato il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. Arrivano i soldi in Sicilia per le infrastrutture e intanto Caltanissette e molte città della provincia siciliana sono ancora isolate dal resto dell'isola. Quanto ancora dovranno aspettare i cittadini per sentirsi dai cittadini di serie A? Ma ancora c'è moltissimo da fare, io non sono uno di quelli che viene a fare le promesse. Perché sì, facciamo la Caltanissette a Grigento, importante, avete visto lo stato di avanzamento dei lavori, però ancora c'è tantissimo da fare. Ed è importante che i lavori siano fatti a regola d'arte, cioè che ci sia un controllo dei cittadini, che nessuno faccia il furbo, che nessuno freghi, che nessuno rubi. L'importante però è che ci sia il meccanismo, che quando qualcuno ruba si arresti il ladro. Da noi invece in Italia si arrestano i lavori pubblici e non si arrestano i ladri. Detto questo, oggi abbiamo fatto un passo in avanti molto importante e significativo, secondo me. 470 milioni di euro in più, chiedo ai cittadini di vigilare e soprattutto chiedo che si possa lavorare su un meccanismo di controllo. Perché? Perché se noi facciamo finalmente lavori pubblici, creiamo anche posti di lavoro, cosa che in passato con l'austerity, i governi tecnici sono stati bloccati, avete visto no? Il governo tecnico ha tagliato i soldi dei lavori pubblici e questo vuol dire meno posti di lavoro. Se invece noi riusciamo a fare lavori pubblici a regola d'arte, come la Caltanissetta Grigento e non solo quella, le cose finalmente cambiano. Senti, Alpana ha detto ieri che le sconsiglia di andare via eventualmente se dovesse vincere il no. Io penso che quello che faranno i leader politici non interessa a nessuno. Il punto vero è che chi vota sì vuole cambiare, chi vota no lascia le cose come sono, chi vota sì taglia le poltrone, chi vota no tiene i privilegi di oggi. Se volete cambiare e finalmente dare al paese un sistema con meno politici e più politica, con più semplicità, si vota sì. Se vi va bene questo sistema, votate pure no. E a Caltanissetta oggi è giunto anche il presidente dell'ANAS. Per troppo tempo abbiamo sprecato tempo perché qualcuno ha pensato di far vincere la cultura dell'austerity e quindi ha dimezzato gli investimenti pubblici in Italia con un ragionamento filosofico suicida che ha portato alla riduzione di 20 miliardi di finanziamenti. Non lasceremo che l'Italia commetta gli errori del passato quando si è deciso di tagliare sulle opere pubbliche perché chi taglia sulle opere pubbliche sta tagliando il suo futuro, la sua possibilità di crescita. Queste le parole del presidente del Consiglio Matteo Renzi in visita al cantiere sulla strada statale Agrigento Caltanissetta accompagnato dal ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio per la sigla dell'accordo preliminare per l'integrazione ANAS-CAS e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario che stabilisca una tariffazione uniforme per il pedaggiamento della rete autostradale siciliana. Accordo siglato tra il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani e l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Giovanni Pistorio che prevede, oltre alla costituzione di un'unica società di cui ANAS avrà la guida industriale, la regione e l'indirizzo strategico degli investimenti, lo sblocco dopo nove anni di oltre un miliardo e mezzo di euro e l'impegno di 470 milioni di euro per ulteriori investimenti su alcuni tratti importanti per la Sicilia. Questi fondi servireanno a sicuramente manutenere tante le nostre strade, abbiamo 4.000 chilometri molto importanti su tutta la regione, la regione con più chilometri di ANAS in assoluto e poi realizzare tre opere che richiedevano da tanto tempo il completamento, la Trapani-Mazzara del Vallo, la Trano Bronte e il completamento della Licoidia e Bea fino alla 19, che sono tratte su cui altri lotti funzionali sono stati aperti e vanno completati. Il calcolista ti aspetta ancora le opere di compensazione, quanto saranno realizzate? Ovviamente queste sono previste dall'autorizzazione, verranno completate insieme nel corso della realizzazione dell'opera principale. Le opere pubbliche sono fondamentali, senza queste opere è impossibile creare economia, sviluppare, creare opportunità per il futuro dei nostri giovani, quindi in particolare al sud dobbiamo costruire. Per farlo dobbiamo farlo nel modo migliore possibile e assolutamente creando le condizioni per cui la correzione sia lontana. Per questo ci siamo messi a lavorare con le procure e con i prefetti per avere procedure che consentano di intercettare e di evitare che sulle opere pubbliche si concentri il malaffare. Intanto sono a buon punto i lavori sulla strada statale 640 Caltanissetta Grigento, come affermato dal presidente dell'ANAS. I lavori sono molto avanzati, la galleria è al 75% ed è l'opera più importante di tutta la tratta. Entro la fine dell'anno apriremo il primo tratto funzionale dal chilometro 9 al chilometro 44, quindi 35 chilometri disponibili. Il resto verrà aperto a tratte fino al marzo del 2018, quando è previsto il completamento dell'opera. Diversi interventi di manutenzione sulla rete idrica di Gela per migliorare il sistema di distribuzione all'utenza. E quanto comunica Caltacqua? In particolare in questa prima fase gli interventi saranno effettuati nella zona alta di Spina Santa, al fine di poter garantire al più presto la distribuzione nelle ore diurne. Le squadre di manutenzione di Caltacqua effettueranno alcuni test sulla rete idrica. Non è escluso che potrebbero verificarsi in questi giorni dei disagi rispetto alla regolare distribuzione. L'assessore comunale ai servizi sociali di Giabella ricorda che entro il prossimo 30 novembre le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli. Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7500 euro o le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro. Sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati. Modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del segretario sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune di Gela. L'ottomazione delle cartelle esattoriali. L'associazione Codice di Gela ha istituito uno sportello con dei professionisti. Esattamente come si possono rottamare queste cartelle? Sì, certamente. Le cartelle si possono quindi rottamare. Riguardano le cartelle esattoriali che sono state notificate da Serit, riscossione Sicilia dal 2000 al 2015. Questa rottamazione riguarda le cartelle relative ai tributi, non solo tributi relativi all'IVA, bollo auto, multistradali, ma riguardano cartelle anche tributi locali come ICI, Tassu, TOSAP e anche la TARES. Queste cartelle possono essere quindi rottamate, aderendo quindi alla max sanatoria del 2017. Quindi mediante questa sanatoria il contribuente non pagherà i relativi interessi, quindi le relative sanzioni e anche la maggiore ratezione. Le cartelle riguardano non solo le cartelle che sono state notificate dal 2000 fino al 2015, ma anche relative alle cartelle che il contribuente ha rateizzato, però ha pagato soltanto alcune rate, altre rate non le ha pagate, quindi può essere rivista il piano di rateizzazione. Cosa deve fare l'utente? Deve rivolgersi direttamente allo sportello? Si rivolge presso il nostro sportello che si trova in sede da noi in via Empedocle, vecchia stazione, e noi orari di ricevimento dello sportello è lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19. Quindi noi, mediante questo sportello, il contribuente si rivolge da noi, porta queste cartelle sattorelle che sono state quindi notificate, e tramite relazione alla propria situazione noi verificheremo se queste cartelle possono essere impugnate o meno, ove sono prescritte, e se possono, quindi se vi è un abbattimento degli interessi e delle sanzioni in relazione allo specifico della situazione del contribuente. E tutto avviene in maniera gratuita? Sì, tutto avviene in maniera gratuita, il contribuente quindi si reca presso il nostro sportello, e noi diamo un'informazione a 360 gradi in relazione quindi alla situazione del contribuente. Ad un anno dalla sua scomparsa, la pubblica assistenza Procivis di Gela ricorda Giacomo Ferrera. Sabato 19 novembre alle 17.30, nella sala congressi della Procivis in via Ossidiana 23, donna Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia alla presenza dei volontari e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. Al termine della messa, la presenza della moglie Maria Granvillano seguirà l'intitolazione della sala operativa a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale della Servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana RICETRASMISSIONI. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa, baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti e puliti, utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Eccoci, seconda parte del telegiornale, venerdì 18 novembre, l'Associazione Gela Famiglia per sensibilizzare sui diritti dei bambini, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, che ricorre il 20 novembre, aderisce all'iniziativa nazionale in farmacia per i bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava. I volontari dell'Associazione raccoglieranno farmaci e prodotti pediatrici per bambini nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa. I prodotti raccolti saranno donati alle famiglie di Gela, che si trovano in difficoltà economica. Le farmacie che hanno aderito sono Gennuso, Via Venezia, Labate in Via Malazzi, Pintaudi in Via Verga, San Giacomo in Corso Salvador al Disio, Salerno sempre in corso Salvador al Disio, e Varica in Viale Corte Maggiore. Noi ne abbiamo parlato con la responsabile di Gela Famiglia, Michela Prestia. Come sarà articolata l'iniziativa di venerdì prossimo a Gela, che coinvolgerà numerose farmacie? Esattamente sono sei. Le nostre volontarie in quel giorno saranno volontarie anche della Fondazione Francesca Rava. saranno presenti nell'orario di apertura, quindi di mattina dalle 9 alle 13, sia nel pomeriggio dalle 16 alle 20. E cosa raccoglierete per poi donare alle famiglie che purtroppo vivono in condizioni disagiate? Noi raccoglieremo farmaci da banco, cioè quei farmaci dove non è necessario avere la ricetta, e tutto quello che riguarda il mondo baby care, cominciando dal latte, omogeneizzati, pannolini e prodotti per l'igiene personale del bambino. Insomma, è una giornata dedicata a tutto il mondo dell'infanzia. L'anno scorso soltanto una farmacia aderente, quest'anno sei. Volevate di più o vi accontentate? No, per noi già veramente è un grande numero. Fin d'ora ringraziamo tutte le farmacie aderenti perché saranno loro, insieme alle nostre volontari, insieme a me, insomma, a tutti coloro i quali si sono prestati per questa iniziativa, che ci aiuteranno, i farmacisti ci aiuteranno in questa iniziativa. Li ringrazio vivamente, sei sono tanti. Speriamo l'anno prossimo di averne di più, insomma, la provvidenza arriva sempre. Una cosa molto bella è che c'è stata una grande solidarietà e anche tra noi volontari, anche se sono mamme in famiglia, anche se sono impegnate, hanno conservato due ore, tre ore per questa iniziativa. A Giola c'è un tasso di povertà spaventoso. È veramente grande. Guardi, io sono ormai, ho una certa età, veramente vedo che le cose stanno cambiando, ma non sicuramente è meglio. Io parlavo con qualcuno, dicevo che prima venivano i mariti o le moglie, oggi vengono giovani e coppie insieme. Guardi che accogliere queste persone non è facile anche da parte delle nostre volontari, perché le persone hanno bisogno non solo di aiuto fisico, materiale, ma hanno bisogno anche di essere supportate psicologicamente. I nostri giovani, le nostre giovani coppie, purtroppo molte di loro non stanno attraversando momenti facili. Concerto di beneficenza in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si terrà domenica 20 novembre a Nella Chiesa Sant'Agostino di Gela, promosso dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, in collaborazione con la Regione Sicilia, il Comune, il Comitato Provinciale Unicef, il Lions International e l'Interact. Il programma prevede alle 18 la celebrazione della Messa e alle 19.15 il concerto. L'evento sarà accompagnato da una raccolta fondi in favore della campagna Unicef 100%. Vacciniamoli tutti. E proseguono gli appuntamenti con la rassegna Viaggio Musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra, promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela, col patrocinio della Regione, del Comune e del Museo. Sabato 19 novembre alle 19 è previsto nei locali del Museo archeologico regionale il recital del chitarrista Davide Sciacca. Con la consegna degli attestati agli agenti della Polizia Municipale si è concluso oggi al Comando dei Vigili Urbani di Gela il corso di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione professionale sul testo unico ambientale e i relativi controlli. L'intervento formativo è stato tenuto dal tenente Giampiero Chipinti, soddisfazione è stata manifestata dal sindaco Domenico Messinese e dal neoassessore alla Polizia Municipale Rocco Darma. L'incontro è servito anche per la presentazione ufficiale del nuovo componente della Giunta Municipale che nel corso di un confronto ha mostrato grande attenzione alle esigenze del corpo. Il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, ha annunciato altri corsi, due dei quali, per la loro rilevanza, sono stati richiesti al Comando di Gela dai comuni di Catania e Agrigento. È una materia ostica, è una materia complessa, è una materia che però ha una grandissima rilevanza alla vita di tutti i giorni, per essere un corso ambientale che parta sulla tutela del territorio, sulla gestione di quelli che sono i cosiddetti rifiuti di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere, approfondendole con tutte le tematiche legali che negli ultimi anni sono succedute e quindi con una conoscenza proprio in ambito legislativo, che oltre a tutte le attività operative per poter contrastare un fenomeno che oggettivamente dà dei problemi a livello territoriale. Fra le altre cose è un corso svolto col personale interno, svolto proprio dagli stessi uomini del Comando della Polizia Municipale e che è stato richiesto anche di essere svolto in altri comuni proprio per la completezza e per la qualità del corso in se stesso. Abbiamo avuto modo di toccare con mano le professionalità all'interno del nostro Comando della Polizia Municipale che diventano punto di riferimento per quello che è la formazione in tematica ambientale e anche in altre tematiche. Volevo precisare, e lo dico anche con orgoglio, che è stato svolto un ottimo lavoro. Complimenti al Comandante della Polizia Municipale in modo particolare e agli istruttori che addirittura prendono, ricevono richieste e condatti da comuni limitrofi, tra cui anche Catania per esempio, che prendono come modello appunto questo corso di formazione e questo nuovo modo di fare formazione. Noi proseguiamo il nostro percorso formativo che ormai abbiamo iniziato da diversi anni a questa parte. Devo dire che non solo lo continuiamo ma addirittura lo abbiamo intensificato perché normalmente abbiamo fatto un'attività formativa l'anno, quest'anno siamo già arrivati alla seconda e siamo a novembre. E per di più la continueremo nell'ultimo scorcio dell'anno perché andremo a tenere un corso di formazione a Catania, al Comune di Catania, per Catania e provincia, e un altro corso lo terremo ad Agrigento. I punti di Catania di questo intervento formativo sono stati sostanzialmente l'aspetto squisitamente, l'aspetto tecnico della materia per poi passare all'aspetto insomma delle sanzioni. Perché io ho sempre ritenuto che se non si comprende bene di cosa si sta parlando è inutile poi andare ad applicare le sanzioni e quindi abbiamo parlato un attimino di tutti gli aspetti che riguardano la materia dei rifiuti dalla loro classificazione al loro modo di gestione per poi passare a quegli aspetti che sono le sanzioni che sono poi tipiche della Polizia Municipale. La pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film Lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 all'antidoto è scattata anche la campagna abbonamenti per la stagione teatrale l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre per informazioni ci sono dei numeri telefonici 338 7143 293 330 225 442 0933 822 707 e al teatro Eschilo sempre di Gela sabato 19 novembre alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gershwin per la regia di Turi Giordano e Manola Turi ci sono ancora biglietti disponibili lunedì 21 invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 anche in questo caso ci sono dei numeri telefonici 0933 91 1892 e 345 558 80 580 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci eseguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti 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 grazie a tutti